L'ideale del concorso è proprio quello di non solo valorizzare i giovani talenti nello strumento della chitarra, ma anche quello di muoversi in una direzione in cui la musica diventa veramente il motore di crescita della società in tutti i suoi aspetti. Musica e l'arte ci portano a capire quanto il bello sia importante per la nostra società perché spesso perdiamo un po' questa idea del bello. Questo concorso è straordinario perché è cresciuto nel tempo, accoglie giovani chitarristi di tutte le nazionalità, ma la cosa più importante è che questo concorso si propone di portare la musica sempre di più. Applausi Grazie.